direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di super enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto. Oggi sabato 4 gennaio il jackpot ha raggiunto la cifra di 55 milioni 914 mila 18 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 2. Inizia il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. E' in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 57. Siamo al secondo numero con super enalotto se inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 23. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 30. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 44. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 37. E' il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 80. 90. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly di questa sera è il numero 26. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 57. 23. 30. 44. 37. 80. Numero jolly 26. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche il 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar di questa sera è il numero 56. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 2 in ordine crescente. 23, 30, 37, 44, 57, 80. Numero Zolli 26, superstar 56. L'estrazione di oggi sabato 4 gennaio termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate. ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 55 milioni 900 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 2. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del super in all'otto segna 444 mila 21 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 55 milioni 900 mila euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super in all'otto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 56 milioni 800 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 77 mila 427 euro ciascuno. I 4 sono 554 e vincono 426 euro ciascuno. I 3 sono 21 mila 43 e vincono 33 euro ciascuno. I 2 sono 376 mila 73 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state segnate ben 16 mila 909 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella, nessun 4 stella. I 3 stella sono 98 e vincono 3 mila 383 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1912 due stella. 10 euro vanno ai 13 mila 149 uno stella. 5 euro vanno ai 31 mila 189 zero stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Il Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 7 gennaio. Giocheremo per un jackpot di 56 milioni 800 mila euro. Arrivederci.